Il campeggio municipale di Pinzacca Ecco il camper di Aquila Rossa con farfalla rossa lì a godersi il fresco dopo una giornata torrida abbiamo avuto 34 gradi adesso ne abbiamo 21 e questa è la situazione in questo momento 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 è la situazione in questo momento è la situazione in questo momento